Sono un'intervento al favore dei lavori delle commissioni, in quanto io faccio parte della quarta commissione e in più partecipo a tutte le altre commissioni senza restituzione e senza gestione, in più scappo da lavoro per andare a capire quali sono le ordinarie del comune in quanto distrazione, non si riesce a capire niente, siamo cercati di affrontare problemi nelle commissione. Ho seguito la sua commissione e vedo che si sta iniziando a delineare un lavoro e penso che ci sta portando già a termine con qualcosa, che poi vada o non vada è un altro discorso. Scusate bene, quando riguarda il tuo, anche il tuo anni del tre, infatti tutte quelle osservazioni che hanno impedito anche la precedente scelta. Sono solo un'intervento, giusto per ricordare, oggi non è che discussioni esistono, perché l'ultima parte ci si chiama, l'unico che si parla nel mezzo è quello, giusto per capire. Guardi, andiamo a guardare i giugneri di tutti, questo punto non c'è solo male, a noi ci ha appuntato la nostra esperienza di faccia manorale da chi sa chi, noi siamo, abbiamo la nostra testa per pensare, quindi noi riteniamo a parlare a nome di tutti i giovani che stiamo nel consiglio comunale, che le cose o che si fanno, fanno, l'importante è che si fanno e non bloccare ancora per anni e anni tutti quelli che sono i grandi progetti e meggi che potrebbero parlare di questa amministrazione. di un treno che si ferma ogni stazione a creare il vostro rapporto oppure no, io penso che questa amministrazione abbia bisogno di un treno veloce, perché con questa qui, con questo treno, perché così non possiamo andare a cercare. Quindi invito il PD a rivedere la propria posizione. Grazie. Grazie.